Tavullia in moto, una festa straordinaria della città di Tavullia, la vigilia del Gran Premio di Misano presa d'assalto da appassionati, motociclisti, turisti, chiunque voglia venire qui proprio a vivere questa area speciale. Le due ruote appartengono alla cultura del nostro territorio, le due ruote a Tavullia hanno trovato davvero un qualcosa in più che chiaramente risponde al nome di Valentino Rossi che ha condizionato lo sport delle tue ruote per oltre 15 anni e continua a farlo. Una festa bellissima, finirà tardanotte, fuochi d'artificio, bomboloni, buon divertimento a tutti. È la non edizione, riguardo un po' tutti i settori di cui mi occupo, dal turismo come promozione turistica a livello nazionale e anche internazionale visto la serata dell'altra sera. Cultura, quindi qui oggi abbiamo la Benelli, quindi tutta la storia della Benelli, oltre che storia a livello motoristico e anche cultura. E sport, quindi lo sport qui sta di casa, soprattutto a Tavullia, dove risiedono diversi campioni del mondo e soprattutto tre piloti della MotoGP fino a poco tempo fa, adesso sono due, è un pilota della Moto2, quindi siamo proprio il top, cioè non c'è altro paese o città al mondo che abbia tre piloti di questo livello. Oggi siamo qui a Tavullia, quindi questa idea che avevamo lanciato qualche anno fa, come avevo presentato quella legge per far sì che le marche diventassero sempre più una regione che prendesse consapevolezza del valore che ha, sia dal punto di vista dei piloti, sia dal punto di vista di quella che è la meccanica a livello internazionale. Quindi le marche sono sempre più una terra di piloti di motori e iniziative come queste dimostrano che la strada che abbiamo portato avanti è quella giusta.